Tutte le nostre vite, ma in particolare di una persona in questa sala, che le nostre vite sono state toccate tutte, ma la sua è stata scomvolta. Allora io adesso vi voglio tutti in piedi. Perfetto, e soprattutto perché era la grande artista, la grande scelta, vedi Raffaele e la Carrà non ce ne saranno mai più. Eravamo alla finale, a Rascoli, quindi nel 1995, festival bar. Super emisione, c'è la zucchero, il cognito, corona, tutti i nuovi, quei momenti. Ma crema degli anni avanti, praticamente parliamo della manifestazione del programma televisivo più visto in estate, ma in assoluto più visto della televisione italiana. Grazie a tutti.